Si chiama Dwayne Wallach a 37 anni di età della California ed è accusato di omicidio da parte della polizia di Bay Area di San Francisco. Infatti l'uomo in questione avrebbe fatto fuori e cannibalizzato la nonna con cui viveva di nome Ruby Wallach. Ha fatto fuori l'anziana nonna di 90 anni di età e è stato sorpreso dalla polizia mentre mangiava diverse parti del suo corpo. L'uomo dapprima ha fatto fuori la donna con un coltello per rompere il ghiaccio e l'ha fatta a pezzi e ha ammagiato alcune parti del cadavere. A fare entrare bene i poliziotti sono stati vicini di casa della donna preoccupati da quei grida e da quei momenti sospesti. Quando gli agenti sono occorsi in casa hanno trovato l'uomo ancora cibante delle parti del corpo della nonna. Immediatamente è stato indicato a lui di fermarsi ma ha proseguito non badando a ciò che stava succedendo in casa. Il poliziotti ha usato il teaser, c'è stata una connotazione a seguito della quale l'uomo è stato arrestato. Si trova in ospedale, sembra che a scatenare la follia sarebbe stato l'abuso da parte di sostanze stupefacenti che l'uomo avrebbe compiuto. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi se vi va, commentate. Un saluto caro dal narratore italiano di YouTube Italia.